prima edizione a crema per music for music sul palco giovani artisti ma non solo vediamo come è andata una rassegna costo zero il festival music for music organizzato dalla band cremasca over dreams ha dato la possibilità a diverse realtà musicali locali di salire sul palco allestito per l'occasione in piazza duomo a crema nella prima delle due serate protagonisti sono stati giovani spazio ai sound station agli odissee all'alba i metro gem agli alterna i frenesia per chiudere con il cantautore mimmo domenico di masi nella seconda serata invece toccato le realtà storiche del territorio dai tre a cui di paolo cella che con i brani dei queen hanno riempito la piazza agli ultima chiamata figli dei chiamata urgente con la voce di anna bianchi e poi gli over dreams padroni di casa e di cantautore denis guerini in chiusura di serata è salito sul palco anche giobresanelli music for music festival ha saputo dimostrare che non è poi così difficile ridare vitalità alla cultura musicale cittadina la materia prima di certo non manca andrea spinelli e moris cornelli rispettivamente voce e basso e chitarra degli over dreams oltre ad avere organizzato insieme allo staff la manifestazione hanno anche condotto in maniera simpatica e leggera le due serate grazie a tutti grazie a tutti